Primo libro di Samuele, capitolo 30, i versi da 1 fino a 20. L'orio in nome di Dio, l'orio in nome del Signore. Prima Samuele, capitolo 30, dal verso 1 fino al verso 20, a Dio vada la gloria. Tre giorni dopo, quando Davide e la sua gente furono giunti a Siclag, ecco che gli Amalichiti avevano fatto una scorreria verso la regione meridionale e verso Siclag. Avevano preso Siclag e l'avevano incendiata. Avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che vi si trovavano, piccoli e grandi. Non avevano ucciso nessuno, ma avevano portato via tutti e se ne erano tornati da dove erano venuti. Quando Davide e la sua gente giunsero alla città, essa era distrutta dal fuoco e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero, finché non ebbero più forza di piangere. Le due mogli di Davide, Ainoam di Izrael e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal, erano anche loro prigionieri. Davide fu grandemente angosciato, la gente parlava di lapidarlo, perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie. Ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. E Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Achimelech, ti prego, portami qua l'Ephod. E Abiatar portò l'Ephod a Davide. E Davide consultò il Signore dicendo, devo inseguire questa banda di predoni, la raggiungerò. E il Signore rispose, inseguila, perché certamente la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa. E Davide dunque andò con i 600 uomini che aveva con sé e giunsero al torrente Besor, dove quelli che erano rimasti indietro si fermarono. Ma Davide continuò l'inseguimento con 400 uomini, 200 erano rimasti indietro, troppo stanchi per poter attraversare il torrente Besor. Trovarono per la campagna un egiziano e lo condussero a Davide e gli diedero del pane che egli mangiò e dell'acqua da bere. E gli diedero un pezzo di schiacciata di fichi secchi e due grappoli d'uva passa. Quando egli ebbe mangiato, si riprese, perché non aveva mangiato pane né bevuto acqua per tre giorni e tre notti. E Davide gli disse, a chi appartieni? Di dove sei? E quegli rispose, sono un giovane egiziano, servo di una malechita. Il mio padrone mi ha abbandonato perché tre giorni fa mi ammalai. Abbiamo fatto una scorreria nella regione meridionale dei Keretei, sul territorio di Giuda e nella regione meridionale di Caleb e abbiamo incendiato Siclag. Davide gli disse, vuoi condurmi giù dove è quella banda? Ed egli rispose, giurami per il nome di Dio che non mi ucciderai e non mi darai nelle mani del mio padrone e io ti condurrò giù dove è quella banda. Quando egli l'ebbe condotto là, ecco che gli ammalichiti erano sparsi dappertutto per la campagna, mangiando, bevendo, facendo festa a motivo del gran bottino che avevano portato via dal paese dei Filistei e dal paese di Giuda. Davide diede loro addosso dalla sera di quel giorno fino alla sera dell'indomani e non uno ne scampò, tranne 400 giovani che montarono sui cammelli e fuggirono. Davide recuperò tutto quello che gli ammalichiti avevano portato via e liberò anche le sue due mogli. Non vi mancò nessuno, né piccoli, né grandi, né figli, né figlie e nulla del bottino, nulla di quello che gli ammalichiti avessero preso. Davide ricondusse via tutto. Davide riprese anche tutte le greggie, tutti gli armenti, quelli che conducevano questo bestiame e camminavano alla sua testa, dicevano questo è il bottino di Davide. Amen. Chiudiamo gli occhi, preghiamo il Signore. Signore ti vogliamo ringraziare per la Tua parola che è sempre un cibo sostanzioso per la nostra anima e ti vogliamo pregare che lo Spirito tuo possa trasformare la meditazione in un messaggio diretto all'anima e alla vita di ognuno di noi. Parla dal cielo come abbiamo cantato, parla in quest'oro, Signore, perché noi vogliamo ascoltare e ubbidire alla Tua voce. Nel nome di Gesù te lo chiediamo che è con Te, benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. State comodi. Gloria al Signore. Questo brano, questa storia è sicuramente ricca di insegnamenti. Quindi faremo qualche breve considerazione su qualcuno dei versi che abbiamo letto. Innanzitutto Davide, a un certo punto, abbiamo letto al verso 6, si trova ad essere grandemente angosciato. Perché? Perché abbiamo letto che a Siclag, dove lui abitava e dal quale si era allontanato, era un accampamento dove Davide si era stabilito, erano passati gli ammelechiti. E in questa scorribbanda avevano portato via tutto quanto, beni e persone. E inoltre avevano incendiato tutto. Ed è normale che Davide fu angosciato. Credo che ognuno di noi lo sarebbe stato al suo posto, angosciato perché non aveva più la moglie, non aveva più i figli, non aveva più nulla di quello che possedeva. E sicuramente nella nostra vita ci sono dei momenti in cui siamo grandemente angosciati. Perché ci sono dei momenti in cui sembra che stiamo perdendo o arriviamo a perdere tutto quello che magari abbiamo. Ad esempio un lutto in famiglia è un motivo di angoscia, legittimo, normale. Ad esempio quando la salute viene meno o quando il lavoro viene meno e magari ci ritroviamo a non avere più quelle certezze che fino a un'ora prima avevamo, siamo angosciati. Quando nella famiglia ci sono delle tensioni col marito, con la moglie, con i figli, tra i figli, siamo angosciati. Quando vediamo che intorno a noi il mondo va verso una direzione sbagliata, siamo angosciati. L'angoscia arriva, la preoccupazione, la paura, tutte queste cose arrivano. E allora ognuno di noi deve partire dal principio che c'è una sola soluzione dinanzi a questa angoscia. E la soluzione è quella che Davide trovò e che la parola di Dio ci lascia. Quale fu questa soluzione? Davide si fortificò nel Signore. E noi ci dobbiamo ricordare che fin quando siamo su questa terra, motivi di angoscia ce ne saranno tanti. Perché i problemi non è che vanno a diminuire, i problemi aumentano. Tu pensi adesso passerà un anno, due, le cose miglioreranno, non lo so, mi auguro di sì, ma il corso della storia ci insegna diversamente. Tu speri che la tua salute diventi più forte, ma magari passando gli anni la salute più che forte tende a calare. Tu pensi, magari poi i miei figli si sposeranno, avrò più tempo libero, poi arrivano i nipoti, arrivano tante altre cose, forse preoccupazioni per i figli sposati che hanno dei problemi. Insomma, la vita è fatta di tribolazioni, la vita è fatta di preoccupazioni, la vita è fatta di situazioni che non vorremmo vivere, ma che ci troviamo a vivere. E delle volte quando ci troviamo in queste situazioni, gridiamo e diciamo, Signore, perché a me? Come se essere cristiani fosse un motivo per cui non ci deve succedere nulla. La Bibbia dice che quando piove, piove sul giusto e sul peccatore, che quando esce il sole, esce sul giusto e sul peccatore. Noi non abbiamo creduto nel Signore per questa vita, né abbiamo riposto la nostra fiducia in Lui per stare bene, per avere un ottimo stipendio, per poter avere benessere, eccetera. Noi abbiamo creduto nel Signore perché abbiamo realizzato che c'è, oltre a un corpo, un'anima e lo spirito. E abbiamo realizzato che la salvezza dell'anima è in Cristo Gesù e che quell'anima può avere speranza di entrare nel cielo anziché essere scaraventata nell'inferno solo se siamo in Cristo. Questo è il motivo per cui abbiamo creduto. E quando i problemi arrivano è inutile dire, Signore, perché? Perché la vita scorre così. Io ricordo, e questo mi fu di grande insegnamento, una frase che venne detta da una donna di spettacolo, che non era credente e che anni fa si ammolò di un tumore e questo tumore purtroppo la portò alla morte. Ma questa donna, quando un po' si riprese all'inizio da questa situazione di malattia e la intervistarono, disse queste parole. Appena il tumore è arrivato ho detto, Signore, perché a me? Dio, anzi, disse, perché a me? Poi però riflettuto ho detto, Dio, perché non a me? Sono io forse speciale, migliore degli altri? Sono una persona sulla faccia di questa terra? Può succedere anche a me? E mentre ascoltavo quella donna dicevo, guarda, questa donna, che non è credente, lei lo diceva di non essere credente, eppure mi ha dato un grande insegnamento. Perché noi delle volte siamo lì a lamentarci davanti a Dio e dubitare dell'amore di Dio, solo perché qualcosa di strano avviene nella nostra vita. E invece dovremmo ringraziare Dio per tutte le cose che Egli ci ha, dalle quali ci ha preservato, e dalla forza che ci dà nelle difficoltà che affrontiamo ogni giorno. Allora non dire più Dio perché a me, ma ringrazia Dio che Egli è con te nella situazione in cui ti trovi. Davide si fortificò nel Signore. Cosa significa fortificarsi nel Signore? Significa trovare in Lui la forza. Perché noi non abbiamo la forza per affrontare le situazioni avverse della vita. È vero quando tutto va bene e ci sentiamo forti, e anche quando le cose vanno male davanti agli altri gonfiamo il petto e diciamo ce la farò. Poi però, quando le situazioni si aggravano, quando le cose sembrano migliorare, il nostro animo viene meno. E lì è l'occasione in cui dobbiamo andare ai piedi del Signore e dire Signore, io ora ho bisogno di Te, ho bisogno della Tua forza. Stai attraversando un momento difficile, fortificati nel Signore. La vita sta girando verso sbagliato, fortificati nel Signore. Non riesci a trovare più le energie necessarie per andare avanti, fortificati nel Signore. Il Signore ti darà la forza. Davide, infatti, in questa situazione, si sente angosciato, la gente cerca, addirittura parlava di rapidarlo perché tutti erano amariggiati, ma Davide si fortifica nel Signore, nel suo Dio. E allora cosa succede quando ci fortifichiamo nel Signore? Succede che vediamo che i giovani si affaticano e si stancano, i forti vacillano e cadono, ma noi acquistiamo nuove forze, ci alziamo in vuolo come aquile, corriamo e non ci stanchiamo, camminiamo e non ci affatichiamo. Gloria a Dio per questo. Perché poi alla fine avviene, come è stato detto anche nelle testimonianze, che facciamo il riassunto della giornata o della settimana o di quel periodo che abbiamo attraversato così difficile, ci rendiamo conto che abbiamo corso, camminato senza mai fermarci. E la forza che ce l'ha data è il Signore. Ci siamo fortificati nel Signore. Gloria a Dio per questo. Perché Lui è un Dio fedele ed è un Dio che ancora oggi sa aiutare quelli che sperano e confidano in Lui. E come Paolo vogliamo stamattina dire e ogni giorno della nostra vita dire io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. È in Lui che possiamo le cose. Inutile contare sulle nostre capacità. Per quanto potete essere intelligenti, siamo tutti limitati. E le nostre forze scemano giorno dopo giorno. Ma in Dio noi abbiamo una fonte inesauribile di vittoria. Il primo segreto quindi è fortificarsi nel Signore. Il secondo segreto lo troviamo al verso subito dopo. verso 7 e 8. Cioè Davide dopo essersi fortificato nel Signore si rialza, va dal sommo sacerdote scusate dal sacerdote a Abiatar e gli dice portami qua l'Ephod Abiatar glielo porta e Davide consulta il Signore e dice devo inseguire questa banda di predoni la raggiungerò e il Signore gli rispose. Ora è importante il fatto di consultare il Signore lo sappiamo bene perché abbiamo imparato a pregare il Signore e abbiamo imparato in ogni circostanza della vita a cercare luce al Signore. Però è importante che ci soffermiamo su cosa significhi consultare il Signore. Per alcuni credenti consultare il Signore significa intraprendere una cosa e dire Signore aiutami a portarlo a compimento. Ma Davide ci insegna che consultare il Signore non è questo. Perché Davide non è che dice Signore io ho deciso di inseguire gli Amalekiti aiutami a raggiungerli. Ma Davide dice Signore li devo inseguire gli Amalekiti li raggiungerò. Cioè Davide chiede prima al Signore se quello che sta per fare è nella sua volontà e se quello che sta per fare avrà un successo secondo la volontà di Dio e poi prende e insegue i predoni. Ora quante volte nella tua vita sii sincero ma anche io sia chiaro non sono esente abbiamo semplicemente preso il nostro piano l'abbiamo sparato davanti a Dio e gli abbiamo detto Signore io ho deciso di fare questo aiutami a raggiungere questo obiettivo. Poi non l'abbiamo magari raggiunto e abbiamo detto eh ma il Signore non ascolta le preghiere. Ma noi non abbiamo veramente consultato il Signore. Noi non abbiamo chiesto luce al Signore. Noi abbiamo cercato di imporre la nostra volontà a Dio ed è normale che Dio quando quello che noi vogliamo fare non è nella sua volontà non ci aiuta. Ma non perché è un Dio dispettoso ma perché è un Dio che ci ama e ci vorrebbe evitare tanti problemi e quei problemi che delle volte arrivano nella nostra vita è perché siamo come dice la scrittura con i cavalli con i paraocchi decidiamo una cosa io devo andare avanti per questa strada. Ma Dio sia lodato che gli delle volte mette degli ostacoli lungo il nostro cammino perché ci vuole fermare e Dio ci aiuti quando questi ostacoli arrivano e ci fermano a non continuare ad andare avanti. perché se no ci facciamo ancora più male. Davide consultò il Signore Davide chiese luce al Signore Davide disse Signore è nella tua volontà impariamo a fare questo fratelli fortifichiamoci nel Signore e consultiamo il Signore riponi la tua fiducia nel Signore ed egli appianerà i tuoi sentieri ed appagherà i tuoi desideri è lui il Signore è lui colui che deve illuminarci su quello che dobbiamo fare e quello che la nostra vita ci deve spingere a fare e cercare aiuto a Dio perché sappiamo che poi Dio risponde. Ora avete visto che Davide consulta il Signore e Dio gli dice inseguila perché certamente la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa. Una delle cose importanti che ci dobbiamo ricordare è che Dio quando noi lo cerchiamo risponde non è un Dio mutuo lui risponde risponde tramite le circostanze risponde mentre leggiamo la sua parola risponde mentre siamo in preghiera risponde mentre siamo in chiesa risponde nei modi che lui stabilisce e nei tempi che lui ha stabilito. Il nostro problema è che viviamo in un tempo dove tutto è caratterizzato dalla velocità. Ormai tutto si misura in velocità voglio dire se tu hai una connessione del cellulare non ti interessa altro se non la velocità è 4G è 4G plus è 5G è 8G è 10G ti interessa che sia più veloce possibile. Quando andiamo in un ristorante in una pezzeria delle volte ci interessa più quanto sono veloci a servire rispetto a quanto è buono quello che ci verrà servito. Siamo abituati ormai a pranzo ai fast food andiamo lì veloci sbrigati devo tornare ormai ingurgitiamo tutto a una velocità incredibile ma il Signore non fa così il Signore è un Dio che si prende il suo giusto tempo perché Lui ha la giusta visione del tempo e noi tanti problemi ce li abbiamo o perché non consultiamo il Signore o perché non aspettiamo la risposta del Signore c'è un brano sempre in prima Samuel al capitolo 13 dove ad essere protagonista non è Davide ma il suo predecessore vale a dire Saulo Saulo che quando aveva 30 anni cominciò a regnare sopra Israele Saulo si scelse sto leggendo dal capitolo 13 3.000 uomini 2.000 stavano con lui a Mikmas e 1.000 con Jonathan il figlio di Saulo a Ghibea cosa succede che Jonathan batte la guarnigione dei filistei i filistei lo sanno e allora Saulo suona la tromba per tutto il paese e dice lo sappiano gli ebrei e tutto Israele sentì dire che Saulo ha battuto la guarnigione dei filistei e Israele così si è reso odioso ai filistei e il popolo venne convocato a Gilgal dove c'era Saulo i filistei si radunarono per combattere contro Israele avevano 3.000 carri 6.000 cavalieri gente numerosa come la sabbia che è sulla riva del male e salirono e si accamparono a Mikmas e gli israeliti vedendosi ridotti a mal partito perché il popolo era messo alle strette si nascosero nelle caverne nelle macchie tra le rocce nelle buche e nelle cisterne e ci furono anche degli ebrei che attraversarono il Giordano per andare al paese di Gad e di Galad quanto a Saulo egli era ancora Gilgal e tutto il popolo che lo seguiva tremava ed egli aspettò sette giorni secondo il termine fissato da Samuele ma Samuele non giungeva a Gilgal e il popolo cominciò a disperdersi e ad abbandonarlo e allora Samuele disse allora Saulo scusate disse portatemi l'olocausto i sacrifici di riconoscenza ed offriamo l'olocausto e aveva appena finito di offrire l'olocausto che arrivò Samuele e Saulo gli uscì incontro a salutarlo aveva aspettato i sette giorni anzi aveva aspettato sette giorni meno un'ora circa perché pensava vabbè ma ormai Samuele non verrà più e allora prende e fa la sua offerta ma quello fu un grave peccato agli occhi di Dio perché Saulo non era autorizzato a fare l'offerta la poteva fare solo Samuele e se solo avesse aspettato quell'ora non si sarebbe sentito dire da parte del Signore ciò che troviamo scritto più avanti e cioè che il Signore aveva deciso di ritirare la sua benedizione dalla sua vita e che qualcun altro avrebbe preso il suo posto sul trono di Israele fratelli e sorelle non andiamo di fretta aspettiamo il tempo del Signore abbiamo deciso di consultare Dio abbiamo deciso di chiedere a Lui luce aspettiamo che sia Lui a rispondere e Lui che dice vabbò se il Signore io vado stai fermo aspetta Paolo pregò tre volte prima di ricevere una risposta da Dio e non sappiamo quanto tempo è passato tra la prima preghiera e l'ultima preghiera ma si fermò di pregare e continuò il suo cammino solo quando il Signore gli disse la mia grazia ti è sufficiente e la mia risposta alla tua preghiera è no perché sapete che quando Dio risponde delle volte dice no noi siamo abituati a sentirci dire solo sì delle volte siamo come quei bambini che vogliono sentirsi dire sì a tutti i costi e continuiamo ma io la voglia ma io la voglia ma io la voglio il Signore dice non si può non si può perché Dio è un padre buono che sa rimanere fermo quando è per il nostro bene e dirci no noi delle volte per toglierci davanti i nostri figli abbiamo detto ma sì basta che mi lasci in pace Dio non lo farà mai Dio è troppo saggio è troppo buono è troppo paterno per fare una cosa del genere Davide si fortifica nel Signore consulta il Signore aspetta il Signore come dice poi nel Salmo 40 Davide stesso io ho pazientemente aspettato il Signore ed egli si è chinato su di me e ascoltato il mio grido sa che può raggiungere allora prende parte con 600 uomini via alla ricerca degli Amalekiti e mentre fa questa lunga rincorsa degli Amalekiti avviene che a un certo punto arrivano al fiume Beor e là di questi 600 200 si fermano perché erano stanchi ma Davide che doveva rincorrere gli Amalekiti perché lì c'era sua moglie e i suoi figli e non poteva permettere che quelli le droni tenessero prigionieri i suoi cari anche lui probabilmente certamente era stanco come gli altri ma non si ferma va oltre il fiume e continua ad inseguire questi Amalekiti se qualcuno intorno a te si è stancato e si è fermato tu non ti fermare perché tu devi rincorrere questi Amalekiti che hanno cominciato a fare razzia nella tua vita nella tua famiglia che stanno dominando delle volte i pensieri e i cuori di quanti fanno parte della tua casa li stai vedendo che si allontanano tuo marito i tuoi figli tua moglie li vedi tiepidi sempre più tiepidi vicino ad essere freddi sono in mano agli Amalekiti che li stanno presi li hanno rapinati e li vogliono portare lontano da te ma Dio ti insegna e ti dice questa mattina insegui quegli Amalekiti perché tu riconquisterai tuo marito alla fede riconquisterai tua moglie alla fede porterai i tuoi figli alla fede inseguili non ti fermare ma gli altri sono stanchi gli altri forse non hanno capito la gravità della situazione per questo sono fermi a quel fiume ma tu che hai capito che la situazione richiede il tuo sforzo fai questo sforzo insegui quegli Amalekiti non puoi permettere di rimanere nella povertà non puoi permettere che i tuoi figli siano presi da questi ladroni e portati verso la distruzione non te lo puoi permettere e se lo stai permettendo non dire che ami i tuoi figli non dire che ami tuo marito non dire che ami tua moglie perché non si può essere stanchi quando si tratta della vita delle persone che ci sono cari delle volte quando siamo sul lavoro facciamo degli sforzi in mani perché siamo costretti dalle circostanze e Dio ci aiuti nelle vie della grazia di essere pronti a fare gli stessi sacrifici permettetemi anche qualcuno in più ne vale la pena insegui questi Amalekiti non ti fermare anche se gli altri si fermano anche se dovessi rimanere da solo insegui quegli Amalekiti perché per Davide che li inseguì e che riuscì ad essere fermo nella sua decisione ci fu un premio e il premio lo abbiamo letto arrivò lì dove gli Amalekiti stavano festeggiando banchettando abbiamo preso tutto quello che Davide aveva Davide arriva e si riprende tutto 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 e lo riporta trionfante a Siklag e quello fu il buttino di Davide l'inferno fa festa quando qualcuno si raffredda nella fede l'inferno fa festa quando qualcuno si allontana dalla fede l'inferno fa festa nel vedere tante persone che sono lontane dalla fede perché non hanno mai accettato la grazia di Dio ma il popolo di Dio non può rimanere inerme vicino a un fiume a riposarsi il popolo di Dio deve inseguire questo tremendo e terribile nemico affinché la festa sua finisca e possa iniziare la festa degli angeli nel cielo che si rallegrano per ogni peccatore che giunge al ravvedimento noi siamo chiamati a lavorare in questo senso in questa direzione se vogliamo essere graditi e approvati da parte del Signore e allora è vero ci sono le angosce ma nelle angosce ci dobbiamo fortificare è vero ci sono tante cose da fare ma nelle cose da fare dobbiamo consultare il Signore e non ci dobbiamo dimenticare di quanti sono nelle mani di Amalek e si trovano ad essere in questo momento lontano dalla presenza di Dio dalla presenza del nostro Davide Gesù il figlio di Davide secondo la carne e noi vogliamo rincorrere questo avversario e vogliamo continuare la corsa fino a quando noi non avremo riconquistato altre anime al Signore magari nostra moglie vostro marito i vostri figli le persone più care perché sapete tante cose sono importanti su questa terra tante ma c'è una cosa essenziale una che è la più importante di tutte è quella la salvezza dell'anima e che Dio mi aiuti e ci aiuti insieme a continuare questo inseguimento perché il bottino è sicuro perché colui che combatterà per noi e ci darà la vittoria è il figlio di Dio il quale è scritto in Colossesi che come Davide fece con gli Amalichiti ha fatto pubblico spettacolo delle potenze dell'inferno riducendole a nulla perché lì su quella croce e poi con la resurrezione egli ha trionfato e ci ha dato la vittoria chiudiamo i nostri occhi chiediamo il nostro capo andiamo sulle nostre ginocchia preghiamo il Signore con tutto il cuore gloria al nome di Dio gloria al nome del Signore se stamattina ti senti angosciato o angosciata fortificati nel Signore trova la forza in Lui e Lui ti rialzerà Lui ti farà alzare in volo come le aquile gloria al nome di Dio se c'è qualche progetto nella tua vita qualunque esso sia di qualunque natura stamattina consulta il Signore e chiedi Signore è nella tua volontà? se non è nella tua volontà io sono disposto per amore tuo a rinunciarci perché sono sicuro che tu avrai qualcosa di meglio da farmi fare per la tua gloria stiamo inseguendo il nemico che magari ha preso qualcuno della nostra famiglia stiamo vedendo magari qualcuno di casa nostra che si sta allontanando dal Signore qualche amico o amica che non vuole in nessun modo piegare il cuore all'annunzio dell'Evangelo non fermiamoci cari non fermiamoci al fiume continuiamo continuiamo perché il bottino ci sarà non lasciamoci scoraggiare ma incoraggiamoci insieme a cercare il Signore e a continuare ad essere araldi dell'Evangelo lo diamo in nome del nostro Dio celebriamolo con tutto il cuore ringraziamolo e chiunque si sente interceda presso il trono della grazia del Signore gloria al nome di Dio grazie a tutti